Virginia Raffaele è stata pizzicata in compagnia dell'attore romano, che l'ha accompagnata fino al portone di casa. Baci appassionati, risate e abbracci, sembra che la protagonista di LOL 2 abbia finalmente trovato l'amore. Virginia Raffaele ha finalmente trovato l'amore, o almeno così pare a giudicare dalle foto dei baci rubati con l'attore Thomas Santu, 31enne romano. L'attrice, 41 anni, in passato ha avuto una relazione con il collega Ubaldo Pantani, imitatore di mai dire gol e quelli che il calcio, durata dal 2013 e vissuta intensamente tra privato e lavoro in comune. Dopo 5 anni insieme la rottura e da allora nessun uomo nel cuore dell'attrice romana che nel 2019 si dichiarava single. Non è semplice, soprattutto se fai lo stesso lavoro, raccontava nel 2019. A immortalare il loro amore è il settimanale Oggi, che pubblica gli scatti di una fredda e romantica notte milanese. Virginia è appena uscita dal teatro lirico, reduce da una delle tappe del suo spettacolo Samusà. Ad attenderla, camuffato tra la folla di fan e con in mano una rosa rossa da donarle, c'è Thomas Santu. I due vanno a cena con la troupe, poi si allontanano in coppia, a braccetto. Incrociano l'obiettivo dei paparazzi, li notano ma non curanti ci ridono su e continuano la loro passeggiata. Sono quasi le due quando, ridendo, si scambiano a bracci e baci innamorati, fino sotto casa dell'attrice, dove lui le dà la buonanotte prima di salutarla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.